Sì, è una fotografia esatta della situazione, anche perché diventava difficile giocarla, il campo non è dei terreni, non permetteva di fare dei corsi giocati di Pino, perché non è buona in condizione, però al di là di quello è una situazione delicata per tutte le squadre, che ha vinto la squadra, è riuscita a mettere la squadra, è riuscita a mettere la squadra. Secondo lei, diciamo, è stato deciso di andare a entrare in 90 minuti? No, non fare la squadra, ma poco in contatto, quanto sempre si dice, ha vinto la squadra a me, diciamo che demora loro, però oggettivamente abbiamo creato qualcosa di anche noi, mi rossi sono resi pericolosi soprattutto sulle punizioni o sui corni, per il resto non hanno fatto granché, noi abbiamo avuto due tiri, uno nel primo tempo e in un secondo, poi non abbiamo fatto molto neanche noi. Questa è una partita non dalle grandissime occasioni, però probabilmente il parere è stato più giusto.